facciamo divertire tutto vuoto e noi due come due orsi sulla bicicletta messi in un angolino allora buonasera sono molto contento di essere qui con Paolo Pellegrin prima di tutto di Paolo in questo momento c'è a Roma una uso il superlativo ma mai l'ho usato con questa convinzione una bellissima mostra che è al maxi che è una mostra notevole per fotografie per narrazione e anche per allestimento ed è una mostra notevole in cui si capisce il valore e la solidità del suo lavoro fotografico questa sera ne vedremo tre pezzi perché abbiamo scelto di vedere solo delle aree non di fare una carrellata su tutto di questo grande lavoro biografico è appena uscito un libro pubblicato da Silvana però questa sera non partiamo dalle foto di Paolo ma partiamo da dieci scatti che hanno fatto la storia non tanto la storia della fotografia sul punto di vista fotografico ma la storia del fotogiornalismo cioè partiamo da dieci fotografie, dieci momenti storici in cui la fotografia ha fatto la differenza e ne parliamo con Paolo e poi ci collegheremo da qui alle sue foto cominciamo la prima è del 1961 questa foto ha una ha una forza incredibile è una foto scattata mentre si decideva di costruire il muro di Berlino nel momento in cui si decise di fare innanzitutto la barriera di filo spinato questo soldato era un soldato scelto messo lì per controllare che gli operai mettessero la barriera e nessuno passasse più a 19 anni si chiama Conrad Schuman e poco prima di fare questo salto ha bloccato una madre che cercava di recuperare la figlia che era rimasta dall'altra parte probabilmente racconterà poi negli anni successivi sconvolto da quello che stava succedendo pensa che forse quello è l'ultimo momento utile per passare dall'altra parte dall'altra parte c'è un fotografo giovanissimo che faceva eventi sportivi è curioso che faceva per esempio il salto dei cavalli le corse dei cavalli e aveva un occhio per cogliere l'attimo esatto e coglie l'attimo esatto perché quello che ti voglio chiedere a te questa foto viene scattata con una macchina fotografica che non aveva mica il motore per riavvolgere la pellicola men che meno il digitale cioè lui non aveva la possibilità di fare una sequenza cioè come allora io ti aggancio a questo come è cambiata anche nella tua esperienza che hai iniziato a fotografare in modo tradizionale poi si è passato al digitale per fotografare avvenimenti di questo tipo che cos'è come è cambiato? no buonasera intanto è cambiato enormemente Mario mi ha girato queste dieci foto questa mattina e io insomma ci ho un po' ragionato io non ho mai tanta simpatia per le foto iconiche l'icona non ho mai amato la Mona Lisa preferisco il San Girolamo perché trovo che le icone nella loro forza nella loro potenza e che sicuramente hanno tendono ad oscurare tutto il resto del lavoro su questa foto ho fatto una riflessione da fotografo e ho fatto delle note e mi sono scritto il fotografo cacciatore Gilles Peresse il mio mentore questo è un grande fotografo di Magno anni fa mi dice esistono due tipi di fotografie c'è la foto cacciata e qui c'è un fotografo cacciatore che si è appostato con la sua esperienza dell'equitazione eccetera e ha aspettato questo momento quindi c'è un fotografo che caccia la sua preda e poi c'è una fotografia invece incontrata che è il frutto della relazione con il reale quindi questa è la prima cosa che mi viene da dire e qui per riacganciarmi al discorso di Mario certo questo fotografo aveva un solo colpo questa idea un po' bressoniana dell'allineamento di mettere sulla stessa traiettoria il pensiero la mano e la fotografia quindi io che nasco come dire che nasco con la pellicola so quanto diciamo grande è stato questo diciamo questo passaggio e quanto rispetto ho per i vecchi fotografi me stesso incluso quando appunto con 36 fotogrammi dovevamo raccontare una storia quindi ogni foto ogni click era pensato era frutto di un pensiero mentre adesso è una fotografia che si avvicina al video quasi tu scatti 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 e poi selezioni bene passiamo alla fotografia successiva queste sono le olimpiadi di città del messico è la finale dei 200 metri Tommy Smith e John Carlos sono i due afroamericani e in mezzo a loro si infila non era previsto questo australiano che nella vita faceva il macellaio Peter Norman che arriva secondo e Peter Norman quando prima della premiazione negli spogliatoi capisce che i due vogliono fare un gesto clamoroso vuole partecipare e loro gli dicono ma tu non c'entri niente ne devi star fuori loro diciamo che Tommy Smith e John Carlos uno era più Martin Luther King e l'altro Malcolm X ma decidono che è il momento per fare una protesta simbolica e non gli danno retta e lui vuole avere anche lui il distintivo perché loro vedete che sopra la scritta USA c'è un distintivo che lui mette sopra l'Australia ed era un simbolo degli atleti neri contro il razzismo e se lo fa dare anche lui ma come lo riesce a ottenere loro non gli danno retta poi a un certo punto mentre stanno per uscire uno dei due non ricordo chi me l'ero segnato uno dei due si ecco si John Carlos quello che è dietro si accorge di avere dimenticato i guanti neri con cui dovevano fare il pugno chiuso in albergo e dice ho dimenticato i guanti e allora Peter gli dice ma scusa fate così uno mette il guanto sinistro uno mette il guanto destro e così lo potete fare tutti e due a quel punto per simpatia gli danno il distintivo anche a lui perché gli ha risolto il problema la cosa incredibile è che poi lui l'Australia di allora aveva dei problemi di razzismo fortissimi con gli aborigini per cui lui vive quando torna in Australia una grande campagna di distanze di diffidenza perché si era schierato con una battaglia che per gli australiani non doveva appartenergli con cui non doveva far parte la cosa bella da ricordare che dei tre Peter Norman è mancato è l'unico che è morto e Tommy Smith e John Carlos però quando c'è stato il suo funerale sono andati e hanno portato la sua barra in spalla esatto bellissimo ho già detto tutto io ho già detto tutto l'unica cosa che posso aggiungere di nuovo riflettendo oggi su questa immagine è come una fotografia può essere interpretata in maniera diversa perché se noi non avessimo saputo questo racconto che ci ha appena fatto Mario si poteva pensare che il bianco era rimosso non interessato non partecipe perché l'immagine non ci racconta questo allora quanto non sempre ma a volte le parole sono diciamo sono fondamentali per la nostra comprensione di un'immagine ecco la prossima la parti tu così non dico tutto io no 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 vabbè questa qui insomma questa è una foto famosissima è quella diciamo allora tra noi fotografi insomma non si pensa mai di come dire di tra virgolette insomma cambiare il mondo insomma casomai insomma cambiamo noi stessi facendo quello che facciamo se c'è però una fotografia che viene spesso così citata come 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 l'immagine c'è che che ha diciamo che ha spostato l'opinione pubblica americana è questa c'è una foto di Nick Hat nel 72 la bambina diciamo ferita dal napalm ecco insomma questa forza insomma è la fotografia che è entrata in un dibattito pubblico insomma in un paese peraltro insomma che allora era già stanco di questa guerra e ha spostato degli equilibri infatti voi dovete pensare la guerra in Vietnam fa 58 mila morti soltanto di soldati americani l'America però cambia aveva c'era già tutta la polemica e Pentagon Papers c'era l'amministrazione Nixon si discuteva l'uscita della guerra ma questa foto in quell'estate è capace di cambiare radicalmente l'orientamento dell'opinione pubblica e tra l'altro inizialmente la Sociedade Press non voleva distribuire questa foto perché era contro tutte le regole c'è una bambina un nudo frontale e non non c'era discussione il capo della PIN Vietnam però inizia a discutere con New York che voleva bloccare la fotografia e gli dice guardate che se non la diffondete faccio un casino di inferno questa fotografia è esattamente il simbolo di quello che tutti oggi pensano che sia questa guerra una guerra che non ha più alcun senso e che sta provocando questo alla fine AP si decide la fa uscire la foto esce in tutto il mondo e ha un impatto fortissimo è interessante una cosa la ragazza la bambina che ha nove anni Kim Pook si salva oggi vive in Canada e è molto interessante perché è stata rintracciata il giorno in cui la vedremo alla fine del nostro viaggio in queste fotografie la foto di un altro bambino Aylan che morì su una spiaggia turca un bambino siriano scappando da Cobane insieme al padre affoga e viene fotografato sulla spiaggia e viene chiesto a lei viene raggiunta e gli viene chiesto se era giusto pubblicare la foto di un bambino e lei dice è stato giusto pubblicare la mia ed è giusto pubblicare la foto di Aylan perché queste sono foto che sono in grado di far comprendere molto più di mille discussioni politiche che cosa davvero è successo e quindi questa forse oggi noi parliamo anche con una certa confidenza di questa foto perché lei poi è sopravvissuta oggi è viva probabilmente se fosse andata in un altro modo quel giorno anche la società depressa avrebbe avuto un pudore diverso ulteriore nel non diffonderla andiamo alla prossima questa foto che è del 1972 la palina blu era la foto preferita di Luigi Ghirri il fotografo diceva che tutte le cose che volevo dire io peraltro che si sappia io non riesco a capire la tua scrittura se no non ti brucerai tutto allora dico solo un'altra cosa l'ho scelta per un motivo perché c'è la forza e l'impatto del pianeta della natura della sua forza ma anche della sua fragilità e questo ricordatevela perché mi ci ricollegherò alla fine di tutto quando guarderemo le foto di Paolo sull'Antartide cosa vuoi dire tu? no di nuovo guardando questa fotografia ho pensato anche diciamo all'aspetto tecnico di quanto la fotografia fa parte delle nostre vite nelle sue varie forme questa è una foto scattata a quasi 30.000 km dalla terra e ho pensato alle radiografie alla fotografia dal microscopio veramente la potenza di questa invenzione è straordinaria nel nostro mondo e poi sì era una delle foto preferite di Ghirli forse addirittura la sua preferita lui amava i mappamondi secondo me questa foto contiene il micro e il macro ed è una foto che idealmente contiene tutto tutto lo scibile umano è lì in nuce in potenza allora forse è per questo che lui l'amava così tanto è stata scattata da uno degli astronauti che era a bordo della missione Apollo 17 è interessante una cosa che la foto era stata scattata al contrario cioè il polo sud stava sopra dal punto in cui la vedevano loro e il polo nord stava sotto però la NASA prima di distribuirla l'ha girata l'ha raddrizzata e l'ha mandata in giro raddrizzata perché non riusciva a sopportare che la testa stesse a testa in giù andiamo alla prossima Pechino 1989 vai tu no no vai vai no no questa insomma è una foto questa in particolare di Stuart Franklin che è un fotografo di Magno un mio amico peraltro fatta però anche da altri tre fotografi ognuno poi con una storia roccambolesca cioè Stuart diede il rullino a uno studente francese che lo nascose in una in una scatola di tè e lo portò diciamo e lo portò in Europa in quel modo e una foto sicuramente importante che ha avuto un po' forse diciamo il diciamo il demerito di aver oscurato tantissime altre foto anche di diciamo di fotografi cinesi su quell'evento come se fosse diciamo troppo forte di nuovo questa idea dell'icona diciamo così che raggela e poi un'ultima nota un'altra nota interessante è che è stata diciamo l'oggetto di una doppia propaganda perché anche i cinesi a un certo punto se ne sono appropriati dicendo vedete i nostri carri si fermano non hanno fatto diciamo male al ragazzo per cui non c'è stata violenza non c'è stata repressione e quindi di nuovo l'uso strumentale che si può fare dalla fotografia ecco di questa fotografia non si è mai saputo chi fosse quel ragazzo probabilmente uno studente con le due buste della spesa le autorità hanno detto di non saperne nulla non era nell'elenco dei morti non era nell'elenco degli arrestati ma siccome sia sull'elenco dei morti che sull'elenco degli arrestati ci sono sempre stati un sacco di dubbi e di e di vuoti nessuno ha mai saputo chi fosse questo questo ragazzo e resterà un mistero purtroppo la foto successiva è stata scattata nel 93 in un campo di aiuti umanitari nel nel Sudan durante una una carestia ecco questa è una foto tragica terribile me la racconti tu sì diciamo una foto assolutamente terribile peraltro anche con un epilogo terribile perché il fotografo vinse un pulizio con queste immagini l'immagine fu pubblicata moltissime volte ma lui fu accusato di sciacallaggio cioè di essere in un certo senso il secondo avvoltoio quello non presente insomma che riprende questa scena e questa è una cosa diciamo che magari un pubblico può pensare o dire da fotografo insomma conoscendo poi la storia di questa fotografia che era scattata appunto molto vicino a un campo di distribuzione alimentare con operatori umanitari quindi con tutto un intorno di persone addette preposte insomma ad aiutare queste persone nella carestia questo purtroppo non venne fuori o non a sufficienza e il fotografo fu talmente mortificato che dopo qualche mese si suicidò quindi diciamo sì c'è una fotografia pienamente tragica sì tra l'altro quando il New York Times la pubblicò i lettori del New York Times proprio tempestarono il giornale di lettere contro il fotografo dicendo chiedendo ma perché non hai aiutato la bambina ti faccio una domanda tu questa foto l'avresti scattata? guarda è così difficile saperlo cioè col senno di poi è impossibile come dire non è una fotografia che rientra nel mio diciamo nel mio linguaggio io sono come vedete sono timido c'è il pudico nei confronti insomma del così del dolore altrui quindi mi faccio sempre mille domande per cui magari allo stesso tempo però faccio il fotografo e quando mi trovo in queste situazioni mi dico che la mia funzione il mio dovere è di documentare di testimoniare ma per me l'atto di fotografare è sempre il frutto di una serie di domande di questioni quindi non lo so però capisco che si può fare assolutamente questa fotografia quella successiva è un'altra foto molto forte molto nota è James Natchway è la foto simbolo del genocidio ruandese fa capire alla perfezione che cosa è stato un genocidio fatto con il macete di gente massacrata colpi di macete questi sono i colpi di macete sul volto sul cranio di quest'uomo che sopravvive la foto l'ha scattata in un ospedale della croce rossa ed è diventato un genocidio probabilmente con 800.000 morti ecco che cosa dice a te una foto così? guarda lo so questa è quella con cui ho avuto più difficult time in realtà delle 10 è una foto molto forte molto grafica quasi e lo dico anche qui con grande pudore con timidezza quasi bella e questo mi fa pensare come l'orrore a volte possa convivere con un'altra cosa è una foto che evoca qualcosa che non era stato visto di inguardabile perché comunque quel genocidio fatto a colpi di macete non fu rappresentato in fotografia e questa fotografia però in qualche modo te lo fa immaginare e questo mi viene da dire quest'altra foto che abbiamo scelto siamo quasi alla fine di queste foto è una foto che si è vista nel 2001 e che non vedreste mai negli Stati Uniti non è in tv neanche una presentazione eccetera l'America ha completamente tolto dalla circolazione e non intende più vedere dibattere discutere le foto con i morti dell'11 settembre questo è un uomo di quelli che per la disperazione si sono lanciati nel vuoto lui era un un dipendente del ristorante che stava al 106esimo piano della torre nord si chiamava Jonathan Brille e lui come altre 200 persone hanno fatto questo gesto che era un gesto forse tra due morti possibili anche queste tra l'altro questa foto diventa l'emblema di un romanzo di Don De Lillo e poi di un film The Falling Man diciamo così l'abbiamo recuperata anche se è una foto che appunto non appartiene all'immaginario perché è così forte se vogliamo che molto dell'immaginario mondiale ha scelto di cancellarla sì no sicuramente c'è un'immagine terrificante io diciamo me la ricordo da allora e riguardandola oggi ho avuto un transfer proprio immediato e mi sono proprio detto ma che cosa avrei fatto io come diceva Mario nella scelta tra queste due morti tra morire nel fuoco che sale oppure lanciarmi in questo credo che ci sia nel fatto che ognuno si possa specchiare nel gesto di quest'uomo credo che ci sia la terribile potenza di questa fotografia e di questo che poi è diventato un po' il milita ignoto dell'11 settembre l'altra faccia dell'11 settembre della guerra che ne deriva la guerra in Iraq è Abu Ghraib 2003 la cosa allucinante di questa foto è l'uomo delle torture ma quello accanto che sta lì sembra in questo momento disinteressato pensate una cosa quando viene scattata questa foto non c'è Instagram non esiste Instagram siamo solo 15 anni fa Facebook Zuckerberg sta sperimentando Facebook non c'è la diffusione lo scambio di fotografie sembra impossibile pensare che 15 anni fa era un altro mondo e queste foto sono fatte da un gruppo di soldati di militari che se le sono fatte per divertimento e se le tengono tra loro sono nella memoria di un computer ma un giorno si divertono e le vede anche un loro soldato un compagno darmi loro il quale però rimane sconvolto non si diverte per niente e che cosa fa di notte di nascosto scarica le foto su un cd rom e poi denuncia tutto ai superiori e fa uscire le fotografie e quindi questo è mentre oggi tutto si diffonde qualcuno la postava finiva su un social e si diffondeva in un attimo invece questo se vogliamo è l'ultimo documento che utilizza un percorso tradizionale qualcuno lo copia lo porta ai superiori fanno la denuncia e esce eppure questo poi è il momento in cui l'opinione pubblica internazionale l'America che fin dall'inizio avevano tantissimi dubbi sulla guerra in Iraq però questo rompe completamente qualunque possibilità di condivisione o di supporto a quella guerra nelle opinioni pubbliche occidentali assolutamente come dice Mario è totalmente prodromica profetizza in qualche modo c'è il mondo che viviamo c'è dei selfie dell'immagine così sempre e comunque e in qualche modo mi fa pensare proprio anche a questi ragazzi a questi diciottenni diciannovenni americani soldati in un paese straniero questa normalità o la banalità addirittura dell'orrore questi che si facciamo le foto perché lo troviamo divertente il snapshot dell'orrore sicuramente comunque un'immagine importante che anche questa è entrata nel discorso collettivo pubblico è anche un po' la perdita di una pattaforma morale da parte degli Stati Uniti il fatto che pure loro in queste prigioni commettevano abusi di questo tipo l'ultima di queste foto ne abbiamo parlato prima i primi giorni di settembre del 2015 è una spiaggia turca siamo a Bodrum questo bambino allora lo pensavamo si chiamasse Ilan poi il padre tempo dopo si chiamava Alan Alan Kurdi o Alan forse con la famiglia sta scappando il gommone su cui sono fa naufragio e lui affoga è una foto che riuscì però a scuotere le coscienze probabilmente scosse anche quella di Angela Merkel perché poco tempo dopo la Merkel aprì a quell'onda di profughi siriani che stavano sulle coste turche stavano in Grecia e premevano sui confini dei Balcani stavano nei Balcani e Angela Merkel aprì quando erano arrivati sostanzialmente i primi gruppi a Vienna e disse la Germania li accoglie ecco questa foto a me quello che viene da dire di questa foto è che allora disse secondo me a tutta l'opinione pubblica europea guardate che chi sta scappando da quella guerra sono le famiglie sono i bambini quello potrebbe essere uno dei vostri figli che in quello stesso mare pochi giorni fa stavano facendo il bagno con la magliettina rossa e i pantaloncini quello che con dispiacere dico è che io avrei il terrore io allora ero direttore della stampa e pubblicai questa foto è la prima volta che la stampa ha pubblicato la foto della sua storia la prima e l'ultima di un bambino morto sulla sua prima pagina però allora molta gente scrisse ci fu un dibattito quasi tutti dicevano che era stato giusto pubblicarla io oggi con terrore pubblicherei questa foto perché non oso immaginare che quali potrebbero essere le reazioni sui social alla pubblicazione di questa foto e da qui partiamo con il lavoro di Paolo Paolo ha fatto un grande lavoro sulle migrazioni hai fatto un grande lavoro prima sulla guerra da cui sono andate quelle migrazioni sulla guerra in Medio Oriente storicamente sulla Siria come l'hai fatto sull'Iraq ma tu hai passato anche molto tempo soprattutto a Lesbo nelle isole greche a raccontare questa fuga dalla Turchia dei siriani mettiamo le foto di Paolo che in realtà non cominciano con Lesbo io ho fatto una piccola carrellata possiamo andare anche più veloce qui siamo in Algeria nel 2001 questa è la Libia di Gheddafi l'invasione americana del 2003 dell'Iraq che è il macroscopico errore strategico che poi cambia il volto del Medio Oriente e poi da cui nasce lo Stato Islamico da cui nascono queste migrazioni non scordiamoci mai quanto l'Occidente prima con le esperienze coloniali poi con lo sfruttamento delle risorse quanta ingerenza c'è stata da parte del nostro dell'Occidente in queste aree qui siamo in Libano nel 2006 una guerra tra Israele e Hezbollah dimmi Mario se ti vuoi fermare no 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 va bene questo è un guerrigliero ferito di Hezbollah sempre in Libano qui siamo sempre in Libano un autobot un missile questo è un missile sì sì che peraltro ferì poi anche diciamo io fui ferito anche Scott Anderson il giornalista conquistava insomma il nostro nostro driver e questo è Gaza insomma l'Israele la Palestina Gaza insomma che è un po' la pietra d'angolo del mio lavoro dove ho passato tantissimo tempo negli ultimi 20 anni questa è un'altra foto terribile di un bambino morto sotto un bombardamento una questa è una ci fermiamo su questa foto questa è una delle foto lo dico io più più note se tu che detesti le icone questa è un po' una foto icona tua e mi fermo su questa foto qui siamo è una madre palestinese Genin funerale del figlio e siamo al tramonto e quindi c'è poca luce il modo in cui riesce a scattare è per forza sfocato mosso e questa madre è sostenuta come da un coro di persone che la sostengono ecco questa foto qui secondo me è molto importante perché racconta molto del modo di fotografare di Paolo racconta se vogliamo anche del suo modo di vedere si può dire lui ha un problema agli occhi un problema di riduzione del campo visivo e se ci fate caso le sue fotografie si si accentrano come il suo modo di vedere cioè la figura sta al centro e il resto è sfocato allora naturalmente non è che tu hai studiato come fare questa foto però ci si ritrova il tuo modo ecco lui il mondo lo vede così si si no sempre il mio mentore Gilles Perez una volta mi disse lui è famoso soprattutto per un libro fondamentale nella storia della fotografia che si chiama Telex Iran che è proprio il padre della foto documentaristica moderna e lui mi disse guarda Paolo lo sguardo fotografico è il riflesso della funzione fisica io sono astigmatico vedo doppio e le mie inquadrature spesso contengono più cose proprio perché sono frutto del mio modo di vedere io che ho questo problema che è un glaucoma che diciamo che appunto è una perdita della visione periferica tendo naturalmente a vedere così e quindi questa è una riflessione come dire è una riflessione che mi faccio anch'io sempre insomma di così di quanto poi una condizione fisica poi diventa pensiero diventa sguardo ed è così poi ovviamente è anche una fotografia che si rifà ad una iconografia religiosa questo è abbastanza evidentemente è così andiamo avanti questo sempre a Gaza c'è profughi a Gaza il funerale di Arafat un soldato israeliano che benda un giovane palestinese che era stato appena arrestato piazza piazza Tahrir in Egitto durante l'inizio della prima era araba egiziana piazza Tahrir al Cairo Tunisia durante l'inizio della primavera libica anche qui sempre in Tunisia e questi sono i migranti qui stavo con Medici Senza Frontiere di fronte alle coste libiche ad andare avanti indietro a cercare di intercettare queste barche in questo caso questo barcone erano partite in tre imbarcazioni ne furono trovate solo due e una terza alla deriva con dei morti a bordo alcuni giorni dopo questo è uno sbarco a Lesbos come diceva Mario prima dove ho passato tanti mesi tanto tempo nuovo sull'imbarcazione di MSF questi sono profughi ieri tre ecco questa è un'altra foto ci fermiamo qui un attimo questa è un'altra foto molto forte fatta sempre a Lesbo tra quelli che aspettavano di poter avere il permesso speravano di avere il permesso per prendere il traghetto per andare ad Atene sì questi sono profughi siriani noi non ci possiamo immaginare o forse sì che odissea sono questi viaggi di queste persone che fugono da situazioni catastrofiche la guerra in Siria verrà studiata negli anni a venire come uno degli esempi di violenza più micidiale inflitta da un capo di stato al proprio popolo e quella la precedente è un po' questa deposizione questo ragazzo che sfinito sviene nel porto di Mitilini in attesa del lascia passare qui siamo sempre all'ESBOS e qui ci sono un po' di foto invece della battaglia per la liberazione di Mosul la battaglia per la liberazione di Mosul tu sei andato anche qua per il New York Times Magazine e diciamo è l'ultimo lavoro di guerra che hai fatto di quest'anno no è dell'anno scorso scusa dell'anno scorso quest'anno ti sei dedicato alla mostra è dell'anno scorso e tu sei andato con una brigata di kurdi soprattutto con l'esercito regolare e con i kurdi che andavano a liberare tutta l'area prima dei villaggi intorno a Mosul e poi Mosul secondo me qui c'è la restituzione della fatica della quotidianità della battaglia di queste persone che dobbiamo immaginare tutto un mondo che viveva sotto lo stato islamico e c'è stato un momento in cui tutti pensavamo allo stato islamico chissà quanto tempo durerà chissà cosa succederà e si vede in queste foto questi kurdi anche gente di 60 anni 70 anni che hanno preso i fucili per liberare il loro spazio la loro terra ecco vediamolo e poi ogni tanto ci fermiamo ecco qui è uno dei villaggi appunto questo è Gagliara a sud di Mosul che era un villaggio in mano allo stato islamico cioè un villaggio petrolifero dove c'erano dei pozzi di petrolio che l'isis diede alla fiamme per cercare di creare uno schermo contro i bombardamenti per non far vedere insomma gli americani dove bombardare quindi qui persone che fugono aspetta stiamo un attimo indietro per favore e appunto la gente scappa e scappa con quello che ha sì con tutto quindi con con le greggi con con qualsiasi cosa e questi sono i curdi i vecchi combattenti curdi che appunto come diceva Mario villaggio per villaggio con questa quotidianità della guerra proprio c'è giorno dopo giorno c'è un villaggio alla volta hanno liberato tutta questa fascia di villaggi a nord di Mosul per poi essere invece costretti a fermarsi sia dal governo centrale iracheno e dagli americani perché chiaramente diciamo oltre al tema stato islamico all'interno dell'Iraq c'è un'enorme questione diciamo sunniti sciiti ma anche diciamo anche con con i curdi che rivendicano ad esempio Mosul secondo diciamo secondo i curdi è una città curda cioè come lo è Kirkuk c'è il che sono poi città importanti c'è il petrolifere c'è quindi c'è il qui insomma sempre la battaglia qui c'era lo stato islamico a poche decine di metri questa è una foto meravigliosa questa bambina fa parte se non sbaglio di quel villaggio di cui abbiamo visto le greci no era un altro villaggio questi qui era un villaggio diciamo in mano allo stato islamico un villaggio di di curdi e a un certo punto radunano tutti nella piazza principale del villaggio e gli dicono domani vi portiamo tutti a Mosul e allora che sarebbe stato diciamo il catastrofico per loro ovviamente allora si riuniscono gli anziani e decidono nel cuore della tre di mattina di cercare di fare una fuga disperata insomma e ci riescono e quindi tutto il villaggio di notte si svuota e io li ho incontrati la mattina dopo quando erano stati raggiunti dalle forze tornate un indietro il volto della bambina è impressionante perché questa bambina avrà dodici anni probabilmente una cosa di questo tipo e ha però un volto in cui si vede che cosa ha vissuto è il volto di una donna adulta che ha la sofferenza la fatica tiene i biscotti però le gallette però quello che ha visto noi non lo immaginiamo e questo è un altro momento c'è questo qui un villaggio che si chiama Bashika dove i kurdi incontrarono una grossa resistenza da parte dei militanti dello stato islamico forse c'erano anche dei foreign fighter forse ceceni forse daguestani comunque di scuola sovietica perché c'erano degli sniper dei cecchini molto abili uno dei quali dopo una giornata di battaglia uccise con un colpo il pilota il driver di questo carro e quindi fu una cosa che era un po' il leader della colonna dei kurdi tanto che si fermano disperati poi non si poteva più andare avanti per cui è stato molto complicato quel giorno uscire da questo villaggio e appena loro sono arrivati sono usciti ad uscire sono arrivati in una zona dove non potevano più essere attaccati sono scesi tutti quanti e c'è stato questo momento di commozione per il loro compagno ucciso mi rendo conto che io racconto insieme a te di questi feri come se ci fossi stato anch'io a Mosul io non c'ero ma siccome lui me l'ha raccontato con tale passione io mi sono talmente identificato nel suo racconto e poi l'ho scritto facendo Super 8 per Repubblica che mi sembra di essere stato lì adesso mentre parlavo ho detto ma tu che c'entri non c'eri no no vai continua a andare tu io preferisco stare qui sulla Cristoforo Colombo ecco andiamo in un altro mondo completamente e l'abbiamo messo volutamente come quella foto dallo spazio questo è il tuo ultimo lavoro sì è l'ultimo lavoro prima dell'anno di pausa per la mostra ecco è l'ultimo lavoro che ha fatto Paolo ed è un lavoro secondo me veramente impressionante perché è un lavoro che apparentemente non c'entra niente con i suoi lavori non ci sono persone non c'è la guerra non ci sono fuoco fiamme polvere combattimento fumo niente di tutto questo non c'è rumore nella tua fotografia uno sente il rumore guardandola c'è sempre il rumore qui è perfettamente perfettamente silenzio ma queste foto invece sono perfettamente la continuazione del suo lavoro perché ci raccontano una battaglia che è in corso e che è quella per l'ambiente per il pianeta sì per il riscaldamento quello che alla fine è più dello stato islamico più del Medio Oriente di Trump di non so io che è forse anzi sicuramente credo secondo me il grande tema delle nostre vite cioè delle nostre dei nostri figli sicuramente ancora di più e dei nostri nipoti ed è diciamo l'intervento che l'uomo sta diciamo che l'uomo sta avendo sul clima allora in questo è un nuovo ordine insomma di conflitto di battaglia e io ho cercato da padre insomma mi interrogo molto su questo come sicuramente tutti facciamo io ho cercato di usare la fotografia per cercare di raccontarlo rendendomi anche ben conto di quanto la fotografia non sia attrezzata a raccontare il tempo lento del cambiamento climatico e allora ho pensato di farlo attraverso la bellezza e la fragilità della bellezza quindi questi paesaggi straordinari metafisici che in un certo senso trascendono quasi l'esperienza umana ecco sono sì bellissimi ma sono anche straordinariamente fragili delicati allora io ho cercato di restituire un po' questa fragilità sempre con l'idea che la fotografia non dice mai tutto non rivela mai tutto completamente è sempre un invito che il fotografo fa sperando di incontrare così un altro un'altra coscienza un'altra persona che diciamo che si che si interrogerà su quello che vede allora questo lavoro è pensato così usando diciamo l'escamotage della bellezza per cercare di suscitare una risposta raccontaci come sei andato quanto tempo come l'hai fatto sono andato con la NASA mi sono sentito molto diciamo pensavo prima alla foto fatta dall'Apollo 17 di questo punto di vista diciamo straordinario che pochissimi uomini hanno avuto diciamo la fortuna di così nella storia di vedere la terra in quel modo io nel mio piccolo mi sono sentito un po' così con questo lavoro in questo lavoro perché sono andato con un aereo della NASA che da dieci anni fa queste misurazioni queste rilevazioni sull'Antartide e non c'è altro modo di vedere questo di volare sopra l'Antartide perché non esistono voli commerciali le distanze sono troppo non puoi affittare un elicottero è bello che questo qui è un aereo con un aereo è un residuato bellice della guerra fredda è un aereo ad elica è un caccia sottomarini c'è l'americano la guerra fredda che ha due caratteristiche fondamentali per questa missione la capacità di volare molto basso a bassa quota e con un range con un'autonomia molto estesa perché questi erano viaggi lunghi ogni di base eravamo ad Ushuaia nel sud dell'Argentina e ci vogliono quattro ore di volo solamente per arrivare alla punta dell'Antartide poi altre sette otto ore di misurazioni e altre quattro per tornare per cui serviva 15-16 ore di volo serviva un aereo con una grossa autonomia mi hai raccontato che eravate in una dozzina sì 12-15 però tutti in silenzio per tutte queste ore perché c'erano tutti quelli della NASA tutti i geologi che facevano le loro misurazioni le osservazioni lui che scattava tutti in silenzio a bassissima quota bellissimo per quanto tempo? un mese e poi cos'è successo? a un certo punto tu sei stato ancora lì ma mi hanno cacciato no 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 mi hanno detto basta adesso basta vai non è stata la questione del sottomarino argentino? sì no poi c'è stata anche a un certo punto c'è stata anche questa altra storia terribile questo altro disastro di questo sottomarino argentino cioè della della Navy della Marina Argentina che l'ha andato perduto e allora il governo argentino ha chiesto alla NASA di usare questo aereo questo caccia questo caccia sottomarini per cercarlo e purtroppo non si è trovato non l'hanno trovato ma l'hanno trovato la settimana scorsa hanno trovato la settimana scorsa che è affondato con tutto l'equipaggio a bordo e però lo stato argentino ha deciso che quella sarà la loro sepoltura perché è troppo complicato da recuperare ecco queste sono delle foto sì dove peraltro così diciamo volutamente ho anche deciso insomma di confondere un po' il lettore lo spettatore quindi ho deciso di eliminare l'orizzonte e di creare una confusione tra il micro e il macro la foto precedente ad esempio c'era quella grande frattura ecco quella sono centinaia centinaia di metri di ghiaccio insomma esatto non mi ricordo esattamente tre o quattrocento metri e di nuovo con quest'idea c'è che la fotografia è un invito e poi viene come dire viene chiusa viene completata una volta vista insomma e ogni volta in maniera diversa ecco la mostra al maxi è costruita in un modo molto intelligente perché ha tutto il rumore in un percorso e poi alla fine si arriva in una sala in cui invece c'è il silenzio e c'è una luce completamente diversa e tutto le pareti sono diverse e quindi è davvero un'esperienza che vi consiglio di fare un percorso un percorso che nasce nell'oscuro la mostra per quattro quinti insomma in nera ed è un viaggio nell'uomo nel conflitto nella migrazione nell'erranza e poi piano piano si arriva ad uscire nella luce ecco questa era l'ultima foto che avevamo tu ti sei fermato sostanzialmente per quasi un anno per rimettere in ordine tutto il tuo lavoro per riflettere per preparare un libro per preparare una mostra eccetera eccetera e ti hai fermato con questo come ripartirai con cosa ci hai pensato guarda veramente non lo so è stata una cosa molto molto forte per me da quando ho scoperto la fotografia ci ho messo un po' perché all'inizio studiavo architettura non sapevo che fare una volta trovata la fotografia o come ogni tanto penso una volta essere stato trovato dalla fotografia comunque non mi sono mai fermato ho sempre lavorato moltissimo prodotto quindi fermarmi guardare indietro per la prima volta riannodare dei fili dei passaggi è una cosa stata molto profonda credo che comunque il solco dove mi piacerebbe continuare è il lavoro sul cambiamento climatico cercare un modo per rappresentarlo in fotografia grazie grazie a Paolo e grazie a tutti voi buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti